Il primo incontro di Papa Francesco nel suo viaggio in Turchia è stato con il Presidente della Repubblica Recep Tayyip Erdogan che lo ha accolto all'ingresso del nuovo palazzo presidenziale di Ankara. Dopo il colloquio privato il Papa e il capo dello Stato turco hanno preso la parola nell'incontro con le autorità. Il Pontefice ha centrato il suo discorso sulla necessità di un impegno per costruire una pace solida fondata sul rispetto dei fondamentali diritti e doveri legati alla dignità dell'uomo. Per questo ha spiegato è fondamentale che i cittadini musulmani, ebrei e cristiani godano dei medesimi diritti e rispettino i medesimi doveri. Così più facilmente si riconosceranno come fratelli e compagni di strada e libertà religiosa e libertà di espressione garantite a tutti diventeranno un eloquente segno di pace. Ricordando le guerre fratricide che sembrano nascere l'una dall'altra in Medio Oriente, Papa Francesco ha chiesto di non rassegnarsi e rinnovare con l'aiuto di Dio il coraggio della pace. Vanno utilizzati tutti i mezzi della trattativa, ma anche rafforzato il dialogo interreligioso e interculturale per bandire ogni forma di fondamentalismo e terrorismo. Occorre contrapporre al fanatismo e al fondamentalismo, alle fobie irrazionali che incoraggiano incomprensioni e discriminazioni, la solidarietà di tutti i credenti, che abbia come pilastri il rispetto della vita umana, della libertà religiosa, che è libertà del culto e libertà di vivere secondo l'etica religiosa, lo sforzo di garantire a tutti il necessario per una vita dignitosa e la cura dell'ambiente naturale. Denunciando ancora le gravi persecuzioni in Siria e Iraq, ai danni di minoranze come i cristiani e gli yazidi, il Papa ha sottolineato che la comunità internazionale ha l'obbligo morale di aiutare la Turchia nel prendersi cura dei profughi che fuggono dalla violenza terroristica. Infine è ribadito che è lecito fermare l'aggressore ingiusto, ma non si può affidare la risoluzione del problema alla sola risposta militare.